Il lupolo Il lupolo Il lupolo Il lupolo e olio essenziale, ed è noto soprattutto per le sue proprietà sedative. Infatti viene usato come rimedio contro insonnia, stress e ansia. Ha anche proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, in particolare nel trattamento di infiammazioni legate all'intestino, ed è utile in caso di disturbi digestivi e inappetenza, oltre che disturbi allo stomaco e al vegato. Pare a forti benefici anche alla pelle, ed è in grado di attenuare i disturbi della menopausa. Allevia i sintomi del mal di testa e migliora anche la salute del cuore. Recenti studi, inoltre, sembrano evidenziare anche proprietà antitumorali. inoltre, sembrano, 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 sembrano. inoltre, sembrano, 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 sembrano Grazie per la visione! Grazie per la visione!